Subaru abbandona la celebre trazione integrale e mantiene però il motore Boxster benzina 4 cilindri portato a 200 cavalli di potenza e da così vita la BRZ, coupé sportiva 2 più 2 strettamente imparentata con la Toyota GT86 dalla quale varia giusto per l'impostazione delle sospensioni e per piccoli particolari estetici. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS